Michela Martignoni, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare il libro di Emilio Martini. Emilio Martini è l'autore. Il libro di Emilio Martini è intitolato Sfida a Bertè. Le indagini del commissario Bertè. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Corbaccio. Michela Martignoni è insieme con noi per raccontarci di Emilio Martini, si fa per dire. Ma per raccontare di lei e di Elena Martignoni, in quanto Elena e Michela sono le autrici che si nascondono, per modo di dire, dietro Emilio Martini. Prima di arrivare a questa sfida per te, che tra l'altro è stata già anticipata dal botto nella storia precedente. Ecco, mi racconta com'è nato Emilio Martini. Allora, Emilio Martini, intanto sì, è un pseudonimo ovviamente, dietro qui ci celiamo ormai dal lontano 2012, per firmare questa serie, perché Sfida a Bertè è il tredicesimo episodio di una serie, appunto, che si chiama Le indagini del commissario Bertè. Ed è nato perché Elena e io, mia sorella, venivamo dal romanzo storico, abbiamo scritto numerosi romanzi storici ambientati in epoca rinascimentale e li firmavamo con il nostro nome. Oddio, sempre in ambito giallo, perché comunque abbiamo scritto sui Borgia e quindi, come potete immaginare, i delitti… Più giallo di così dei Borgia. Non si può, ecco, delitti, intrighi e misteri abbondavano. Per, diciamo, spostarci da questo scaffale del romanzo storico e invece passare al giallo contemporaneo, ci è venuta in mente questa idea di nasconderci dietro un nome banale, se vogliamo, perché è un nome comune, che per noi però ha un significato, perché Emilio è un nome di famiglia per noi e comunque poi ci ricorda un grande Emilio della letteratura italiana che, come noi, si lanciava in mondi che magari proprio non conosceva perfettamente… Stiamo parlando di Salgari, ovviamente, che ha inventato un mondo che sembrava talmente ben inventato che sembrava reale in posti che lui non c'era mai andato. Bravissimo, bravissimo. È riuscito a descrivere i mari del sud avendo fatto solo un breve viaggio in una nave una volta e quindi, insomma, anche noi lanciandoci in questa avventura nuova abbiamo pensato di cambiare nome. E quindi… Ma ci sono? Mi sentite? Certo che la sentiamo. Un doveroso silenzio. Ho sentito un segnale che forse veniva dal mio telefono. E niente, quindi l'idea è stata questa. L'editore Corbaccio, che ci pubblica da tanti anni, si divertiva l'idea di avere un nome maschile che celava invece due signore milanesi e quindi è partito così, quasi per gioco, dico la verità. Poi, vabbè, dopo qualche anno era difficile reggere il gioco non essendo la Ferrante, abbiamo invece smascherato le nostre identità e quindi ormai però le indagini del commissario Bertè sono scritte da Emilio e così proseguono. E così proseguono e proseguono con grande attenzione. e Michela Martignoni ci farà conoscere da vicino queste indagini, questa sfida nel caso dell'ultimo romanzo, sfida Bertè, senza troppo rivelare ovviamente. Ma partiamo, Michela Martignoni, dall'immagine di copertina, che è tutta da raccontare. Perché qui l'immagine di copertina è molto particolare, ma altrettanto particolare. se noi guardiamo bene in controluce c'è qualche cosa che si nasconde, potremmo dire così, una parola? Sì, che si cela, sì. Allora, io ti ringrazio immensamente per questa domanda, perché questa immagine di copertina intanto è un regalo, ed è un grande regalo, perché l'illustratore che ce l'ha regalata si chiama Daniele Serra e ha vinto l'anno scorso il premio inglese per il miglior illustratore di Mistero. E quindi direi che, insomma, è un titolo di grande onore. E poi è amato da autori del calibro di Stephen King e Joe Lansdale. Stephen King ha voluto delle immagini di Daniele Serra in un suo film. Quindi vi lascio immaginare, insomma, l'orgoglio che noi proviamo per avere avuto questo ritratto di Bertè, disegnato da questo bravissimo illustratore sardo, un ragazzo di Cagliari, che firma tantissime copertine in tutto il mondo. Quello che si cela è un verbo al futuro, visto che abbiamo già parlato di questo tempo verbale, ed è la parola ucciderò. Ed è la parola ucciderò. Perché questa volta Gigi Bertè si trova alle prese con un assassino doppiamente crudele, perché oltre a compiere effettivamente tre efferatissimi omicidi, li annuncia prima. Li annuncia prima con delle lettere indirizzate proprio al blog che segue la compagna di Gigi Bertè. Marzia, ucciderò, lo dovevo fare da anni, alla fine lo farò, e non sarà finita, non ancora. Ucciderò di nuovo. Marzia, hai una parola buona anche per me? È certo che trovarsi in una cena a lunga riva, in Liguria, in una tranquilla serata, insieme Gigi Bertè, insieme con Marzia, e trovarsi con questa sorpresa, credo che la compagna di Bertè ha cominciato a tremare, e forse anche un po' Gigi Bertè. E qui comincia la sfida, qui comincia la sfida, che poi la ritroviamo per circa 200 pagine, perché poi, terminato questo romanzo, c'è poi qualche cos'altro su cui parleremo prima di terminare questa conversazione. Ma vorrei, Michela Martignoni, prima condividere anche una frase che c'è in esergo. Cose del genere non succedono per cessare all'improvviso, o non cominciano affatto, oppure, se cominciano, continuano sino alla loro conclusione rovinosa e distruttiva. Ora, leggendo questo romanzo, ogni tanto, chiudendo il libro, andavo a ritrovare questa frase, perché questa frase ce la ritroviamo, credo, in tutta la storia, in tutti gli spazi bianchi, dalla prima all'ultima pagina, cose del genere. Se cominciano, continuano sino alla loro conclusione rovinosa e distruttiva. Non ho svelato nulla, ovviamente, però qui siamo nel terreno del rovinoso, nel terreno soprattutto del distruttivo. È parecchio? Eh sì, perché qui il tema, tra l'altro, è particolarmente delicato, perché andremo in un ambito, appunto, è molto difficile, come sempre, non spoilerare, quindi cercherò di tenermi un po' un po' sul vago, ma andiamo sempre in un ambito della giustizia e della legge, che è un tema che in tutti i tredici episodi della saga di Bertè che sono sempre esaminati, cioè dove finisce la giustizia, dove comincia la legge, dove appunto la legge riesce a contemplare tutti gli infiniti casi che la crudeltà e il nero dell'uomo possono affrontare. E quindi anche questa volta questa frase ci porta proprio in questo ambito, cioè cominci, intraprendi un'azione che poi non puoi più fermare, che forse non vuoi più fermare, ma che è assolutamente rovinosa. Eh sì, assolutamente rovinosa, perché qui in questa situazione di continua discesa verso il male, che sembra sempre più completo, non c'è solamente Luigi Bertè, che lui deve trarsi di impaccio per forza di cose, lui è dirigente del commissariato di Lungariva, non è uno qualunque, Marzia, Marzia pensa, è la sua moglie, la sua compagna, però ce ne sono molti altri di protagonisti più o meno importanti, ma tutti sempre con la quasi certezza che stanno per andare in un terreno molto scosceso. Tutti quanti, e poi noi lettori, Michela Martignoli, noi ci innamoriamo di un personaggio o dell'altro che sia colpevole o non colpevole, che sia un protagonista primario, che sia semplicemente uno che dice una battuta, succede, no? Per esempio, ma chissà cosa mi ha fatto, chissà cosa mi ha fatto Deborah Gillian? Una tra le varie presenze in questo... Ti ha colpita! Eh sì, eh sì, lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo ammettere. È un bel soggetto la signora, sì. Eh sì, è un bel soggetto che messa insieme a Mariolina fanno due bei soggetti. Però torniamo alle lettere che questo protagonista invisibile al momento, ma lo scoprirà sicuramente chi leggerà questo romanzo Sfida Bertè pubblicato da Corbaccio, l'abbiamo già detto, si fa annunciare da una lettera anonima, però ogni volta che deve colpire c'è qualche, c'è un avvertimento scritto e qui è una partita a scacchi quasi, perché lui dà delle indicazioni, se vogliamo molto precise, no? Ma lo scopriremo solamente a storia ultimata. Ma in verità sono dei depistaggi mica da poco, perché qui andiamo nel gioco degli enigmi più complicati. E questa persona si è anche voluta divertire alla faccia di Bertè, evidentemente, e quindi insomma c'è questo aspetto così enigmatico di capire per quale motivo scrivere queste lettere, per quale motivo scriverle proprio a Marzia e ovviamente qui insomma l'egocentrismo di Bertè si fa strada, perché ovviamente come può lui non pensare di essere lui il vero bersaglio della sfida essendo il dirigente del commissariato di Lungariva. E qui inizia tutto questo gioco. Inizia tutto questo gioco che dura quattro giorni. Come? Questo gioco che finirà addirittura sul pianeta Fisis. Eh sì. Insomma questa è una cosa di cui non parliamo mai molto spesso perché in Italia evidentemente i racconti non sono molto amati. Il genere racconti non è mai un successo editoriale sicuro. Chissà peggio. Non lo so. Io sono addolorata da questo perché sia io che Elena siamo delle amanti del genere racconto che è il più difficile assolutamente in cui un autore si possa cimentare. E adesso parliamo del ricaricatore ricarichiamoci con questo racconto su cui si stava già parlando ed è un racconto perché mi piace ricordare perché ha una dedica importante perché per l'indimenticabile Sergio Altieri che spesse volte abbiamo avuto come ospite qui in trasmissione per raccontare di libri suoi ma non solo. È indimenticabile per noi. Ecco in che modo lo ricordate al di là di questo racconto del ricaricatore? Ma allora per noi era The Wolf come lui si firmava sempre il lupo e era una persona straordinariamente generosa adorabile noi poi condividevamo appunto Corbaccio come marcha editoriale col quale Sergio aveva pubblicato la meravigliosa saga di Magdeburg sulla su questa terribile guerra di religione la guerra dei 30 anni e per noi era un amico Sergio un grande amico prima che un collega e questo racconto lo scrivemmo per lui tanti tanti anni fa quando lui era direttore di Giallo Mondadori coinvolgeva sempre tutti gli amici e colleghi diceva ma scrivetemi qualcosa che poi lui pubblicava in calce ai Gialli Mondadori e quella volta ci disse girl nel suo stile picchiate duro e a noi venne questa idea di questo strano pianeta in cui il corpo non esiste più e questa volta abbiamo voluto inserirlo abbiamo voluto siccome c'è un tema che appunto che comunque si può dire senza spoilerare nulla comunque c'è un personaggio che soffre di anoressia malattia incomprensibile per il mangiatore Bertè abbiamo voluto affrontare grazie anche ad Olivia perché Olivia lo tenta Olivia lo tenta sì non è proprio il suo genere di cucina ma è più uno basico non si sa se è per la cucina o quello che si nasconde dietro il grembione comunque andiamo avanti chi lo sa chi lo sa diciamo che è un estimatore in ogni caso della buona cucina delle belle donne un estimatore del corpo e quindi di tutte le meraviglie che la sensazione e la corporalità ti possono dare e allora che fatica a immaginare un posto invece dove il corpo non ti dà più queste meravigliose emozioni queste meravigliose sensazioni e quindi questo racconto parla di questo di non avere più il corpo di rimpiangerlo o no di cercare di nuovo queste sensazioni e vabbè per te si diverte in ogni in ognuno dei dodici romanzi noi abbiamo proprio a spinta inserito un racconto appunto facendo contenti alcuni lettori scontenti altri perché come ripeto è un è un genere che si fa fatica a far comprendere appunto anche Sergio ci provava sempre e un giorno raccoglierete tutti questi racconti e sarà un libro nuovo ma guarda lo abbiamo già fatto perché esistono due raccolte in realtà che sono pubblicate sempre da Corbaccio ma solo in formato digitale proprio perché era rischioso dal punto di vista editoriale stamparle perché si sa che non funzionano invece in formato digitale sono stati pubblicati questi dodici racconti neri del commissario Bertè e un'altra raccolta che invece si chiama Talent Show e che sono tredici racconti sul talento su come viene sfruttato su come viene usato su come viene dimenticato direi che è un tema attuale visto che i talent show sono sui nostri teleschermi in ogni momento e quindi in realtà li abbiamo già raccolti alcuni a noi piacciono noi ci crediamo crediamo che sia un genere in cui un autore si deve cimentare soprattutto in questo genere nel nero abbiamo insomma anche in Italia autori straordinari di racconti ricordo Cermanenco ricordo Renato Livieri insomma grandissimi autori che appunto hanno saputo in poche pagine condensare degli argomenti immensi ricordate l'autore si chiama Emilio Martini è l'autore della nuova puntata delle indagini del commissario Bertè il libro si intitola sfida a Bertè del romanzo pubblicato da Corbaccio e che ci è stato raccontato da Michela Martignoni che insieme con Elena sua sorella Elena Martignoni scrittrici che si nascondono dietro Emilio Martini Michela Martignoni prima di salutarci quale libri sono stati messi in valigia per questi giorni di vacanza oh guarda in questi giorni di vacanza ti dirò penso che leggerò pochissimo sono sincera perché io leggo tantissimo tutto l'anno e quindi penso che sfoglierò la libreria della mia mamma sono ospite a casa sua e vedrò se trovo qualche bel classico alla Jane Austen piuttosto che qualche romanzo appunto vittoriano io sono un amante di Dickens può darsi che mi rilegga David Copperfield guarda e quei libri che sono stati letti da ragazzini da giovani e poi rileggerli diventa sempre un'altra cosa interessante sì sì ecco mi hai fatto venire voglia adesso che ci penso vado a cercare subito Dickens perché credo di avere proprio voglia di tuffarmi in quelle atmosfere grazie davvero Michela Martignoni e buona giornata grazie a te bellissima intervista grazie e buona giornata a tutti